Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Lorella Cuccarini fa ritorno alla RAI dopo aver lasciato la vita in diretta nel 2020 e dopo essere stata membro della giuria di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver declinato un'offerta dalla televisione pubblica nel 2023 per continuare il suo percorso con Mediaset, la Cuccarini torna alla RAI per una causa molto personale che le sta a cuore. La sua prima apparizione è stata nello studio di Antonella Clerici e è sempre mezzogiorno. Dove ha incontrato un'amica di lunga data. Nei prossimi giorni, la vedremo girare tra gli studi RAI, mentre giovedì 25 aprile tornerà ad Amici per la registrazione del serale. Lorella Cuccarini parteciperà a diversi programmi RAI, tra cui uno mattina il mercoledì 24 aprile e sarà ospite nel Salottino della Volta Buona il venerdì 26 aprile. Il motivo di queste apparizioni sulla televisione pubblica è la sua dedizione alla campagna a 30 ore per la vita, di cui è cofondatrice e testimoni al principale. Tuttavia, questi impegni non interferiranno con i suoi obblighi con Mediaset e Amici, che verrà registrato il giovedì 25 aprile a Roma.